La crescita è rimasta debole nel primo trimestre del 2024, ma le indagini recenti indicano una graduale ripresa nel corso dell'anno, trainata dai servizi, lo scrive la BCE nel nuovo bollettino economico. I segnali di un prossimo lieve miglioramento della dinamica di crescita sono avvalorati dall'aumento a marzo dell'indice del clima economico dopo due anni di calo. Per la BCE il nuovo patto di stabilità comporterà misure di consolidamento comprese in media tra lo 0,4 e lo 0,6 punti percentuali di pilla all'anno nel biennio 2025-2026.